Mercoledì 6 giugno, presso la libreria Paoline, è stato presentato il libro Il problema delle leggi imperfette, etica della partecipazione all'attività legislativa in democrazia, volume curato da Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica. Partecipare alla vita della nostra società è un dovere. Naturalmente questa è una società complessa, dove la legislazione a volte pone problemi etici e talvolta non consente di arrivare a risultati che siano totalmente privi di problemi dal punto di vista morale. Ciò nonostante bisogna essere presenti, bisogna essere presenti per far sì che l'incontro normativo sia al livello migliore possibile. Questo non vuol dire fare compromessi, ma vuol dire cercare il meglio possibile, risultando significativi nel dibattito pluralistico. Con l'autore sono intervenuti l'avvocato Cesare Trebeschi, già sindaco di Brescia, e Don Sergio Passeri, docente di teologia morale presso lo studio teologico Paolo VI del seminario di Brescia. In quest'anno in cui ricorre la canonizzazione di Paolo VI, evidentemente a tutti i cristiani sovviene l'invito a un impegno concreto per quanto riguarda la costruzione della società, che poi è la costruzione della civiltà dell'amore, della civiltà umana, della società umana. Penso sia importante che ciascuno trovi il modo concreto con cui offrire il proprio contributo per il bene possibile all'interno di una società pluralista come la nostra. E penso che Paolo VI abbia o rappresente per noi un faro molto significativo proprio per questo tipo di impegno nella costruzione della civiltà e della società.